Nel caso in cui non si senta fate rumore, fate qualunque cosa, perché se no io non so come vanno le cose, perché non so l'esterno che è buono, che ho lasciato in ufficio. Topic della lezione di oggi. Topic della lezione di oggi è un argomento che va a coprire uno degli otto esercizi del computer system. Quindi la lezione di oggi vale un esercizio. Tradizionalmente un esercizio del computer sistema operativi vale tre punti, so otto. Sono molti punti dei 24, questo che abbiamo sempre fatto, e il resto lo fa il progetto. Ok, quindi c'è oggi e forse anche un po' di domani, se vado lungo, so tre punti. Quello di cui parliamo oggi è lo scheduling della CPU. Vedo che è aumentata, l'attenzione è diventata proprio un picco, un dire. Allora, cosa vuol dire lo scheduling? Lo scheduling vuol dire fondamentalmente la gestione della CPU. La CPU è una risorsa, vista dal sistema operativo, come una risorsa e a vale della richiesta di lavoro che c'è da parte dei processi per eseguire i loro task sulla CPU e quella non cambia perché tu prendi un pool di processi, questi quando vengono lanciati faranno un certo insieme di operazioni. Questo qua non è responsabilità del sistema operativo. No, è responsabilità di scrivere i programmi di spazio-tempio. E quindi vi raccomando di scrivere i programmi efficienti che hanno bisogno di poco, di più e di poco energia per fare dei passi. Giusto? E avrò anche un'altra parentesi, perché io ieri ho avuto una conversazione con un collega, un amico che lavora in azienda, e c'è una tendenza nei posti di lavoro, un po' come si fa con la burocrazia che viene vista per creare posti di lavoro, dove se c'è un bug di un programma che è concepito male, questo bug si tende a risolvere aggiungendo linee di codice. No? Quindi è come se tu sai l'artrosi, oppure hai una frattura, io non ti risolvo la frattura, ma te do dei pentili. Ti do dei migliatti dolorici. Ok? Questo è quello che tipicamente mi piace, è quello per cui vedete che tanti programmi e tanti siti sono sempre più promosi. abbiamo dei conflitti che sono centinaia di volte più efficienti di quelli, cioè più veloci di quelli che c'erano molti anni fa, però tutto sommato ci mettiamo, è vero che facciamo pure più cose con il conflitto, ma quando devi editare un documento per affrontare delle operazioni che fai nel 90% dei casi, tu comunque ti ritrovi un'alarta. Questa questo oltre, no? Fanno ridurre il consumo energetico, sapete da dove la compra e apriamo l'energia, fa anche bene all'ambiente, cioè tu, meno 0,2, quindi è un dolo per me fare del programma. Questa è una parentesi che ripeterò più o più volte, perché è ovviamente diventata una mia fissazione. E andiamo a parlare del computo, quindi il computo, il amount di CPU che il programma insieme ai programmi deve usare, dipende dai programmi. In questo momento, da poi in poi, assumiamo che i programmi siano fatti bene, perché nel caso di uno scheduler, o in un sistema, uno si deve anche mettere in caso ideale. Perché adesso noi quello che facciamo, è studiamo delle tecniche per dare questa risorsa ai processi, in maniera tale da massimizzare un certo numero di metri, perché è un po' il discorso del lavoro del programma. Niente, no? Ottimismo iniziano i parametri. Allora, intanto vediamo quando è che viene invocato questo magico algoritmo di scheduling, questo task, questo programma, che è la cui responsabilità sostanzialmente è quella di decidere chi è il prossimo run e per quanto tempo è stato il progetto. Questo è il ruolo dello spend, del sito di studio. Quando è che siamo posti di fronte a questa decisione? Beh, sicuramente quando un processo richiede un maio, perché quando un processo richiede un maio, sappiamo che la CQ non è più in carico dell'avanzamento di quel processo, e non è più in carico dell'avanzamento di quel processo, è responsabilità della ION in quel caso. Ok? A quel punto abbiamo la CQ è libera, ma anche io ho cominciato a continuare a girare, quindi possiamo utilizzarla per fare qualcosa. quindi sicuramente quello è il momento in cui possiamo decidere qual è il prossimo processo da assegnare alla CQ, a cui assegnare a CQ. Ovviamente, quando è un altro caso in cui lo scherzo è invocato, questo è abbastanza ovvio, ma non per il resto finisce. Quando finisce, ti diri proprio la CQ, che stai finiti, 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 in sacco è fatto, di te la dai e ho fatto un'arte. Ok? Queste due, diciamo, condizioni, sono... abbastanza in condizioni abbastanza forzate tra virgolette sono nel senso che sono determinate sostanzialmente dai processi e ci sono in tutti i sistemi operativi anche quelli non preempti anche quelli senza stealing la cpu da parte di un processo in running anche nei sistemi storici ora i sistemi non preempti non è detto che siano per forza malvali perché magari per fare un insieme di tasca non per tenere su una wall space possono anche andare bene poi invece ci sono quelli clienti quindi quelli in cui il sistema per esempio vuol dire lui può entrare sottrarre può prendere può diventare attore sono quelli in cui il sistema operativo può decidere di togliere un un processo in running dalla cpu e in questa categoria ricadono anche gli scheduler che nel momento in cui un io termine quindi immaginiamo che abbiamo un processo in running a un certo punto la cpu entra in kernel perché l'entrata in kernel è determinata dalla terminazione di maio che arriva in interruzione a quel punto una volta che tu sta in kernel tanto hai dovuto salvare i contesti hai dovuto fare le tue brave cose a quel punto tu puoi decidere di assegnare la cpu a qualcun altro ok e in questo senso puoi sottrarre puoi togliere dal running corrente un processo che magari stava lì da un quarto d'ora perché un altro aveva richiesto una io diciamo che il tuo io è arrivato in questo senso diventano clienti in particolare noi questo è il mio problema nel percorso delle slide questa è la spiegazione di tutto quello che ho detto nella slide precedente quindi minimato programma in system non si stava molti programma che sono quelli che fanno tirare più perché tengono di poi c'è un ram lo scheduler è sempre invocato quando la cpu fa quando un processo fa una richiesta di io oppure quando un processo termine in in aggiunto a questi la ripeto la caratteristica principale degli scheduler non preenti perché tu non togli mai la cpu a un processo in running a meno che questo non faccia mai mentre se per qualche altro motivo tu ciò togli un processo alla cpu allora diventi uno scheduler ok chiaro ora una parte dello scheduler una parte fondamentale dello scheduler che non fa che non fa parte del vero e proprio algoritmo di scheduling che è quello che deve scegliere a bocce per guardando queste strutture dati che sono i principi dei processi quali eventualmente memorizzeremo delle informazioni quindi questo è l'algoritmo core di scheduler ma la parte fondamentale dello scheduler è quello che viene chiamato dispatcher dispatcher è quello che è quel pezzo che abbiamo visto nel preambolo e nel portambolo è l'entrata in uscita in kernel da parte di un del sistema ok una volta che tu entri in kernel perché arriva un timer inter oppure perché finiscono io allora tu devi fare puoi invocare lo scheduler ricordiamoci una cosa che ogni entrata in kernel ogni volta che io soffraggo al processo da cpu io pago un sacco perché pago un sacco? perché sulle moderne architetture fondamentalmente quando caricate un processo in particolare sia piccolo questo processo entra tutto nella cache del punto la cache ha dei tempi di latenza che sono infinitivamente più piccoli lo vedremo poi quando studieremo l'annuario però sono incredibilmente più piccoli rispetto alla ram alla ram esterna quando tu fai un context work significa che prendi un processo lo butti fuori dalla cpu e ce ne metti un altro fare questo che cosa comporta? comporta che la memoria di questo processo la memoria su cui la cpu lavorava cambia perché se prima stava a lavorare sulla memoria del processo p1 poi si mette a lavorare sulla memoria del processo p1 ma siccome la cpu in realtà lavora in cache non lavora, non accede direttamente sulle moderne architetture alla ram lavora nella sua cache e poi c'è un cache controller che andrà a prendere gli elementi della ram e li copierà in cache e viceversa nel momento in cui certe condizioni sono verificate ma si più lavora nella sua cache nel momento in cui tu sei a un dispazio vuol dire che tu gli invalidi la cache perché tu ti devi devi buttare quello che hai in cache su cui stavi lavorando ovviamente se la cache è enorme ci entrano pure i tuoi processi non è che questo diciamo ti turba troppo però è una ricorso abbastanza circostruzza limitata in caso contrario tu quando c'è un conto switch butti tutta la cache e la devi ricaricare con qualcosa dei dati diciamo del processo che vai passando ok quindi questo ha un costo un costo significativo dipende poi dalle caratteristiche del processo quindi quando lo fanno per salvare se mi rende storia nel sito switch salvare e recuperare lo stato della situazione sì quello ha un costo ma poi a fronte di questo il costo più grosso che paghi in realtà è quello che paghi perché hai svuotato la c ti capisci se salva una baracca del resto ti capisci perché mi sono secondo però poi dopo andare a lavorare sulla memoria che è invalidata dai ogni volta tu devi andare a leggere il terzettino della memoria e te lo porti dentro il terzettino e te lo porti dentro a un costo più alto ok ora per risolvere il problema dello scheduling quindi per affrontare per presentarvi diverse soluzioni al problema dello scheduling che lo rivediamo è quello di scegliere qual è il prossimo running ok quali sono i prossimi running nel nel caso di più cpu se ho più cpu non ho un solo professione se no n più core vediamola adesso e quando uno affronta un problema in generale in informatica quello che fai è cerchi di caratterizzare ma in generale in tutto l'ingegnere cosa fa cerca di astrare cerca di capire quali sono le minime informazioni che mi servono che mi serve conoscere per quel dominio che mi permettono di calcolare una soluzione ok e tu cerchi di restringere il tuo modello alle sole informazioni necessarie se tu vuoi sapere quali processi hai in memoria però ti interessa sapere che ne so in quale finestra gira forse si però non so ti interessa sapere chi è il programmatore che ha scritto l'effetto no ci sono una serie di informazioni che non sono rilevanti poi ci sono quali sono i minimi set di informazioni che ci interessa per caratterizzare un insieme di processi da un punto di vista dello schema beh abbiamo visto che cosa quindi adesso sto guardando solo ai processi non sto guardando all'algoritmo di scheduling perché poi quello sarà una cosa che io andrò definendo abbiamo visto quando hai invocato lo scherzo lo scherzo lo scherzo è invocato quando la yo quando un processo vabbè passa da da running away quindi quando un processo fa una yo quando un processo termina oppure quando entra il cliente oppure quando finisce una yo questi sono i casi in cui lo scherzo è invocato quando lo scherzo viene invocato su che cosa può basare la sua decisione beh una cosa rilevante che mi interessa sapere è quanto tempo si mette una volta che io vi do la CTU quanto tempo ti serve per quanto tempo me la consumo se tu quando vuoi fare la filale poster a te sarebbe bellissimo se sapessi quanto ciascuno di queste persone ci mette di fronte a te così magari ci vedrai filare più corto ok e poi un'altra caratteristica che mi serve è conoscere sono i suoi siti io basso quindi mi serve sapere quanto tempo durante la sua esecuzione durante un certo periodo della sua esecuzione per quanto tempo lui prenderà la CPU quindi un CPU basta è un tempo tra un io e l'altro in cui il processo vorrebbe usare la CPU ok che tempo di computazione di un frammento tra un io e l'altro chiaro ok un io termine quanto tempo io ci metto a eseguire le istruzioni che devo eseguire prima di lanciare il prossimo chiaro questo è un CPU basta un io basta è quanto tempo ci mette la macchina ad evadere la mia richiesta di io sia una lettura sul disco oppure una persona in tasto anche la persona in tasto è un io no è una lettura bloccante di cui non conosce la durata chiaro ok quindi noi possiamo caratterizzare se io sapessi queste informazioni beh diciamo che ho già una buona idea in questo caso stiamo parlando di CPU quindi non stiamo guardando la memoria ok ho già una buona idea di come un posso decidere o posso avere un quadro di come si comporteranno questi processi una volta caricati in memoria e lanciati perché io so che questo processo che inizierà ad eseguire parte da un CPU BART e comincia a mangiarsi da di più poi a un certo punto farò una IO BART e la IO BART mi libererà da più per un certo tempo a quel punto io avrò modo di passare di offrire la CPU a un altro processo per esempio di un po' ok i processi quindi li possiamo caratterizzare in linea di massima una volta abbiamo parlato di CPU BART di IO BART possiamo avere subito un'idea di categorie di processi che sono caratterizzati dall'avere più su CPU BART o più IO BART un esempio di un processo che ha forti che è caratterizzato diciamo da degli IO BART è il vostro editor perché l'editor fondamentalmente fa poca roba ovviamente a meno che non usiate i clips o tutti questi editor qua che fanno girare il mondo dietro perché ti lanciano il programma dei venti righe tu devi lanciare l'index adicolo cugini avuto il massimo vado comunque tu fai girare un editor l'editor non viene il massimo non deve fare niente fa lì fermo quando premi il tasto metti pixel metti cose che poi premete per me che è un classico esempio di un processo di IO oppure anche la copia di un file fa il grosso quando lo copi è lì che giuri ruolo processi invece che sono vincolati da CPU BART i programmi fatti male sono processi che sono più intense oppure i programmi fatti bene ma che devono effettivamente fare tanti calcoli un esempio di un programma che è CPU dominate diciamo è compilatore quando compilate una grossa database beh fondamentalmente per rendere conto della differenza che prendete una macchina più veloce piuttosto che una macchina più veloce piuttosto che una macchina prova a compilare un termine non ci vuole più tanto però insomma 10 minuti minuti la macchina è fallata se prendete una macchina più veloce si mette si mette la metà se è due volte più veloce ok bene ora quando uno va a disegnare uno scheduler ok io ho un processo quindi caratterizza un processo come un insieme di intervalli adesso utila CPU adesso utila io adesso utila CPU adesso utila io se io so la traccia so la storia di quello che un processo sarà durante questo tempo ho delle informazioni ragionevoli che mi permettono di simulare da un punto di vista dello scheduler quale decisione prete cosa come cosa succede ok perché io so che dando la CPU a un processo beh io so che incomincerò a consumare a bruciare il tuo system part fino a quando deciderò di toglierla ma una volta che gli ridò la CPU non è che ricomincio da prima ma ricomincio da finito ok chiaro ma no allora nel momento in cui però è ovvio che la conoscere la traccia di esecuzione di un processo quanti CPU bat rispetto a quanti o a quanti agli obbatti la sequenza in cui questi avvengono non è ammissibile perché magari se il programma è interattivo queste operazioni dipenderanno anche dalle scelte dell'utente ok anche se non è interattivo mi è impossibile poiché il programma tipicamente dipende dai dati mi è impossibile sapere a priori se io non conosco anche i dati di un processo sapere a priori qual è la traccia di esecuzione perché quando GCC comincerà a riceverla CPU perché magari deve sbalparsi insomma è interessato di più perché deve sbalparsi rispetto a quando deciderà di leggere un file header ok non lo posso sapere perché questa cosa qua dipende dal file che gli ho dato da compilare chiaro questo? però quello che posso fare quando non so le cose è posso caratterizzare un processo da un punto di vista statistico dire ok io prendo 100 run di CCC 1000 run di CCC sui dati sui vari e monitoro i suoi comportamenti una volta che ho monitorato i suoi comportamenti cosa posso fare? posso fare una statistica e posso dire quanto qual è la probabilità che un CQBart duri che ne so da 10 a 15 mili qual è la probabilità che un CQBart duri da 15 a 20 mili posso calcolare un histogramma un histogramma in cui se ho la durata del CQBart l'intervallo di tempo in quanto si usa esclusivamente la CQBart e sulle ordinate ho quante volte la frequenza in cui la CQBart viene usata per quell'intervalore ok chiaro ok allora bene quindi quello che abbiamo fatto qui adesso è parlare di spectrum parlare di dispatch e parlare della caratterizzazione parlare della caratterizzazione dei processi da un punto di vista e ora quello che vediamo è dobbiamo fare dobbiamo scegliere degli algoritmi che data questa caratterizzazione dei processi si comportino in un modo meglio o meglio ma meglio o meglio in termini di CQStaturing c'è poco da poco da lì insomma nel senso che parliamo di chiaro alla fine della sera c'è un insieme di processi se la CQ non l'ha tutto io il tempo in cui questi processi in cui questi processi verranno diciamo verranno eseguiti dipende dalle istruzioni che questi processi devono seguire quindi ho un monte di tempo per eseguire questi processi che è quello quindi alla fine a prescindere dallo stereo che io scelgo alla fine quando sono finiti tutti più o meno il tempo sarà stesso quando sono finiti ok chiaro perché alla fine la CQ e quello è il tempo di CQ ammesso che io dia la IO che quando sto facendo una IO la CQ la do un altro processo alla fine quello è il tempo di CQ che c'è però chiaro e anche assumendo che la CQ sia sempre impegnata ci sia sempre abbastanza una richiesta di basso abbastanza pieno quello quanto sta il discorso è che il vostro computer gira durante tutta la giornata fondamentalmente anche se molte delle volte lui non fa niente diciamo cambiare scherzi o cambiare politica per scrivere queste cose ha un senso e può trovare una valutazione in diversi tipi in diverse categorie in diversi numeri fondamentalmente il primo numero che ci salta in mente quando definiamo uno scheduler è l'uso della CQ ora l'uso della CQ è una metrica che interessa non tanto il vostro laptop anche se gli interessa di un punto di seneggia di potenere lo basso con gli articoli ma gli interessa nel caso in cui per esempio lavorare su un cluster da vedere che molto spesso adesso stanno con cloud computing dove la gente non ce l'ha più sul desk ma compra tempo di CQ oppure magari compra tempo macchina ma se tu compri tempo macchina se te compri una macchina se affitti una macchina pesante beh a quel punto tu la vuoi usare al massimo quindi in questo tempo in questo intervallo tu vuoi usare quella risorsa per eseguire non è che devi eseguire cose che non servono ma devi eseguire tutte le cose possibili devi utilizzare quella CQ al massimo ok quindi una metrica di uno scheduler sicuramente è l'utilizzo della CQ e quanto efficientemente uno scheduler ne è per me se uno scheduler per esempio quando un processo fa un IO non fa niente quindi non c'è un schermo lo mette a dormire e aspetta che la IO finisca per esempio era il caso dove si prende un monotask no? quando io faccio una IO qui invece ti dà la CQ a un altro non è quello che aspettare che la IO finisca ok ho un pessimo di l'utilizzo della CQ perché in tutto quel tempo la CQ potrebbe fallere un'altra perché la CQ si intende user time perché posso pure averci un sistema attivissimo che fa l'algoritmo migliore ma se per calcolare qual è il prossimo processo che viene eseguito ci mette un quarto d'ora quello lì non è tempo di CQ valido che io sto usando per i processi per lo user stesso è tempo di CQ che io sto usando per decidere per pensare per fare burocrazia o cose del genere ok quindi uno è tempo di CQ l'altra cosa che possiamo misurare è il time around time il tempo che io ci metto a completare il processo ovviamente il time around time medio misurato come il tempo che intercorre tra quando il processo si presenta e quando il processo si termina ovviamente questo ha poco senso per i processi imperativi perché i processi imperativi comunali non ha senso tanto misurare il time around time in quel caso perché perché beh sei tu che decidi quando fanno di vedere la vita però magari può avere senso nel capito che tu lanci una compilazione parallele ok lanci la compilazione di un processo mi interessa sapere quanto ci mette e quanto ci mette magari dipende da quanti cost sto utilizzando perché io sto se io lancio la compilazione lancio una compilazione parallele in cui ci metto 20 core e io non solo 10 beh io presumo che ci sarà un contest switch mentre tutti questi processi vanno vanno avanti e quindi la compilazione del singolo file ci mette di più ok e poi magari cercherò tanti contest switch e mi fanno ancora aumentare il tempo che mi spazio l'altra l'altra medica è il throughput tu ti metti in questo caso in un senso temporale qua pensiamo a una un cluster le macchine si mette dentro la cadena di montaggio dove ti arrivano processi in continuazione a quel punto ti interessa sapere quanti processi termini quanti processi completi nell'unità di tempo quindi prendi tutti i processi speciali dentro la batteria ne dividi quel tempo che ci metti prendi il tempo che ci metti a fare tutti questi processi e vedi quanti processi termini in un'unità di tempo ovviamente se il tempo è tutto l'intero orizzonte anche il turnaround time non ha senso perché anche tu devi vedere questa medica mentre i processi arrivano è chiaro se tu prendi tutto l'orizzonte temporale beh alla fine diciamo questo fa poco l'altra cosa che ci interessa è il tempo waiting time e questo vale nel caso waiting time il tempo d'attesa questo si misura semplicemente è il tempo che un processo passa nella quota di reti cosa vuol dire che un processo è nella quota di reti vuol dire che ha tutte le risorse tranne la CPU quindi quello è proprio tempo di CPU che se ci fosse solo quel processo lì lui potrebbe andare avanti molto più velocemente ok chiaro quindi è waiting time l'ultimo è il tempo di risposta il tempo di risposta è si misura dicendo quanto tempo ci mette quanto tempo passa tra la fine di una IO quindi tra quando fai pronto prema un tasto ok la fine di una IO al prossimo IO ovviamente questo dipende anche dal vostro programma però assumendo che il vostro programma abbia una risposta perché si presume che dalla fine di una IO alla richiesta di una IO successiva dove si presume che il programma produca una risposta quindi immagina un editor prema un tasto vero carattere il tempo che passa tra quando prema un tasto vero carattere sostanzialmente parlando è il tempo di risposta ok e questo anche questo è diciamo immaginare in cui stiamo utilizzando i tasti anche questo ha un senso ovviamente anche il tempo di risposta va misurato pensando che il processo si metta poco tempo e se il processo si mette in giorno a fare il suo lavoro lì non è colpa del polo schermo che sta lì a smacchina no? ok allora ovviamente che cosa vogliamo fare quando costruiamo uno schermo vogliamo massimizzare certe cose quindi vogliamo massimizzare l'uso del TPU certo ho comprato sta macchina ho messo un sacco di soldi ho comprato una TPU corazzata ora la voglio usare con programmi che veramente necessitano l'uso quindi massimizza l'uso della TPU per fare un buon lavoro e l'altra medica che ci interessa massimizzare immaginiamo che io questa macchina di questa macchina ne vendo il tempo macchina delle persone che mi danno i processi e mi pagano per farvi girare su questa macchina beh in questo caso mi interessa massimizzare i soldi che prendo che può dire che il numero di processi che questa macchina fanno l'unica PPU ok e poi d'altro caso io come utente voglio minimizzare il turnaround time beh meno tempo ci mette ci mettono la risposta tutto il contento waiting time e la risposta ok poi come ho già detto per descrivere un processo cosa possiamo fare beh possiamo descriverlo come una storia di eventi quindi possiamo descriverlo come un tempo d'arrivo quando immaginiamo adesso per marcia di descrivere quali sono i processi di dove scrivere su un pezzo di carta dal punto di vista dello schedule qual è la storia dell'esecuzione di un certo insieme di processi ah quindi ogni processo sarà caratterizzato caratterizzato da un tempo d'arrivo a rarrivo e poi da una sequenza alternata di CPU Bust e IO Bust no CPU Bust faccio dei calcoli e poi stampo il risultato oppure leggo un input da tastiera oppure apro il file ci metterò del tempo ad eseguire queste operazioni di apertura da tastiera questo IO poi una volta che ho eseguito questo IO beh allora ritorna arriva anche il CPU Bust ok IO ok ok chiaramente se il processo è interattivo cioè se un processo è interattivo lì il discorso del CPU Bust dell'Io Bust è una cosa diciamo che va considerata una spesa con le pinze quindi quando parleremo di scheduling adesso penseremo soprattutto a progressi batch no progressi che fanno IO batch IO batch perché altrimenti il tempo che ci metterà l'utente a premere un passo anche se comunque uno potrebbe tranquillamente calcolare le statistiche ecco l'utente medici mette un giorno a tempo scusa il mouse allora abbiamo descritto quindi un processo come una lista di eventi diciamo tra l'attenti più basta più basta più basta come vedete nella slide non è che vuole la scelta quindi sarà il processo più uno che arriva al tempo T100 la prima volta che fanno fa una durata le 5 vertiche 5 unità di tempo poi mi fa una IO sul disco di 5000 eoni poi a quel punto se preso i dati tutto contento cosa fa? niente fa poca roba un batch di uno un altro disco IO di 5000 e vi rispondo questa è la stagione del processo tanto il processo lo posso descrivere così e tutti questi processi possono rappresentare l'insieme di processi che io vado caricando dentro la mia macchina nell'unità di tempo allora come faccio dato uno scheduler quello che adesso vedremo è la simulazione di diversi tipi di scheduler diversi algoritmi che lo scheduler dato un insieme di descrizioni del processo ok quindi quello che vedremo è vedremo dei grafici che hanno sull'asse del X e il tempo poi abbiamo una riga per risorsa una riga per la CPU una riga per il disco 1 una riga per il disco 2 una riga per il disco 3 e per il disco 3 ok quello che succede è che mentre passa il tempo noi dentro a questa riga questa barra scriveremo nell'intervallo di tempo in cui la CPU usa il processo più scriveremo il P1 ok poi a un certo punto passiamo però lì fa una IO se usa il disco 1 incomincieremo a colorare la barra del disco 1 per la durata in cui per la durata di questo IO ok chiaro sì no ok ovviamente se abbiamo quel CPU è facile no più barri rispetto al CPU bene allora il primo caso di scherzi che vediamo è proprio quello più facile quello della porta chi prima arriva viene servito prima a meno che non c'è qualcuno che passa davanti no FCCFS è facile è il peggiore che esista però va preso perché lo scherzi è più semplice che si possa fare che cosa fa FCCFS beh l'idea è che lui prende c'ha la coda di ready e prende la coda di ready e prende dalla coda il primo processo che è in ready e gli lascia la CPU per tutto il tempo per tutto il burst fino a quando questo processo non fa una IO quando questo processo fa una IO che cosa fa FCCFS lo prende e lo mette nella coda di ready quando la IO termini e prende il prossimo affiorante dalla coda di ready e lo mette in ready chiaro? quando la IO del processo che stavo facendo termina ti ha sto processo e lo mette in coda ok? facile vediamo un attimo che cosa succede se non so se ho malissimo più questo slide che ho copiato da l'intanzi però che devo massaggiare non le pre-slide gratis vediamo un po' l'esempio se io ho tre processi questo sono proprio base che non è che normalmente hanno più bust però se c'è tre processi il processo più uno che arriva che c'ha un bust dei 24 ma arriva al tempo più un processo di due che c'ha un bust dei tre che mi arriva al tempo uno e un processo più tre che c'ha un bust dei tre che mi arriva al tempo due che succede? beh con questo ordine io quello che c'errò è che più uno mi esegue fino a tempo 24 poi da c'ho P2 che mi esegue per tre pertiche adesso userò l'unità di misura pertica per indicare il tempo ok? beh P2 mi esegue per tre pertiche e poi P3 ne esegue pure lui dopo che P2 ha finito ora dato questa fraccia di evoluzione è facile calcolare delle metriche per esempio il waiting time e il waiting time è il tempo che un processo passa nella coda di redditi allora quanto tempo passa a P2 nella coda di redditi? 0 pertiche no? perché viene eseguito immediatamente quanto tempo passa a P2 nella coda di redditi? 23 pertiche perché è vero che arriva al tempo 24 perché lui arriva al tempo 1 però deve aspettare quindi lui arriva qua però deve aspettare 23 pertiche per per essere eseguito qual è il tempo quanto dura quanto tempo passa a P3 e P3 arriva a tempo 2 tu fai i conti e scopri che fa 25 ok? allora qual è l'over of waiting poi di 30 anni per scapire dei processi è facile perché qui il tempo fai la media ok? e la media fa il 2 ok? il processo banale e così potete calcolare tutte le altre medie allora che cosa succede che i processi se i processi che abbiamo visto prima mi arrivano in ordine cioè mi arrivano con un ordine diverso mi arriva prima P2 poi P3 e poi P3 ok? allora vediamo di calcolare il waiting time waiting time o l'operatore di P3 allora sappiamo che P2 arriva ci mette 3 pertiche però viene eseguito subito quindi c'è un waiting time di 0 poi arriva P3 che parte al tempo 3 e quindi nel caso peggiore diciamo nel caso peggiore nel caso proprio sia arrivato insieme a P2 ma un un attimino dopo lui ci mette 3 pertiche cioè lui sta nella quota di reddito e P1 partirà quindi qui ho assunto che tutti i processi siano arrivati più o meno allo stesso istante ma il mio schiaccio e me li abbia ordinati come P2 e P3 quanto passa quanti effetti che passa dentro la quota di reddito P1 solo 6 a sto punto io ho un tempo d'attesa molto più basso ok? tempo d'attesa medico poi è chiaro che una volta che più uno sta in CQ lui ci metterà tanto tempo ma non c'hai la sensazione terribile che hai quando tu stai alla posta e ti arriva vuoi prendere una raccomandata e ti arriva il signore che c'ha il muletto pieno di bollettini da pagare questa è una situazione terribile in quel punto ti dici ma perché non fanno una fila per i processi veloci oppure scusa che mi pare passato avanti al supermercato c'è solo un'aranciata la si veloce però lì aumenta il truppo perché tanto te ci resta un giorno lì almeno quel po' rosso che sta lì con la tua aranciata oppure te povero Cristo che ti resta raccomandata ci metti di meno te ne vai prima quello comunque la posta un'ora che deve stare per pagare tutti i bollettini ma tu non devi stare a lui quindi c'ha senso quello che ho descritto prima dell'uomo è l'effetto di un processo che potrebbe essere preso e buttato fuori dalla macchina in un tempo breve magari liberando anche memoria e altre risorse sta lì a aspettare nel frattempo occupa memoria e quant'altro perché c'è un processo più lungo quindi questo è il grande dramma dell'FCFS ops allora questo già ci fa capire che che la politica migliore per ridurre il tempo d'attesa in uno schede del batch è quella di waiting time scusate è quella di eseguire prima i task eseguire prima i task che ci mettono di meno no? non c'ha senso? in questo modo tu evadi sempre i task più 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 rapidi no? mi sembra ovvio ehm il problema scusate ho scambiato queste due slide allora c'è c'è un c'è un problema nel momento in cui andiamo a implementare questa politica che si chiama il problema è che non si può realizzare per implementare questa politica da una parte dovresti dovresti conoscere il comportamento affadurata dei fatti della cpu prima di dargli la cpu e questa cosa tu non la puoi fare perché non sai però dipende dall'evoluzione del processo l'introspezione del codice e analisi del codice che vorrebbe a simularlo non c'ha senso non è una cosa che tu puoi fare tu puoi magari stimarla da un certo punto di vista però mi viene massima non riesci a implementare questa politica veramente però tutto quello che puoi fare per implementare questa politica che è il certo è quella di di approssimarsi come fai ad approssimarlo come fai a stimare per niente implementare questo che è il tipo di schermo uguale all'fcfs però che come politica io adesso che cosa faccio do la cpu al processo che ha il cpu parte di questo e così facendo tu massimizzi chiaramente il trucco ok e anche il minimi di due dittura il problema è che non lo sai quanto una volta hai creato la cpu a un processo mi viene massima tu non lo sai quanto tempo lui ti farà cpu e quindi ti può fregare un processo può anche fregare uno schermo del raffinato poi non ne parlerò ma quello che possiamo fare nel caso del certo è approssimarlo approssimarlo guardando che più o meno i programmi quello che fanno hanno un comportamento civico e quello che loro fanno è una spunti di bar un aiubat un aiubat un aiubat un aiubat diventa nei programmi quelli interattivi chiaramente c'è un mail loop che sarà l'event loop quello che deve leggere gli eventi dove fa un editor sostanzialmente sta in ascolto dei tasti quando prendi tasto lui dovrà favorarsi quello che fa un compilatore anche lui dovrà un comportamento civico e quello che farà sarà carica gli edify carica questo poi compila durante le compilazioni io presumo che ogni statement verrà compilato in un certo modo almeno una fase del compilatore avrà un comportamento civico ok quindi a quel punto puoi cominciare a predire quello che scriverà il compilatore è un pessimo esempio perché una volta che si spiega del processo DRAM si comincia a smacchinarlo tutto immaginiamo un database ok se deve fare un po' di I.O. un po' di on-work server se deve fare un po' di I.O. un po' di C.P. un po' di I.O. un po' di C.P. ok per il mio massimo i processi hanno un comportamento civico quando avete scritto dei programmi che non dovevano terminare immediatamente vedete questo certo c'è più o meno un ciclo dominante all'interno questo ciclo dominante comporta che ci sarà più o meno tra un giro di giotto e il successivo ci sarà più o meno un simile uso delle risorse ok ho anche un esempio di programma che fa tanti I.O. un programma che stampa cose ogni cosa che stampa lui fa ma io stampa cose la scelta quindi fare un programma che fa dai dai per I che guarda 0 a 100 stampa I quello che fa c'è un po' io e questo comportamento è civile la stampa I ci mette dentro di o meno lo stesso tempo però che uno non spieghi per quello che ci puoi fare è semplicemente monitorare il comportamento di questo programma nel tempo quindi dovrei strumentare ovviamente un pochino il kernel per vedere dato un processo non quanto ci metterà ma quanto si è messo nel passato cioè qual è la sua statistica di uso della CPU quanto ha usato la CPU l'ultima volta che gli ho data quanto l'ha usata la penultima, quanto l'ha usata la volta prima, mi ricordo quanto l'ha usata la I.O. così ti fai un'idea di come si è comporta un processo chiaro? Allora quindi questo è il programma dell'approssimazione però prima di passare al video quindi quello che vorremmo fare nell'implementare una specifica test è quello di avere la capacità di predire quello che un processo farà ora quella la salto la slide e poi la riprendo o lo scambiate sul qualcosa, non mi ricordavo così quello che si fa è che il CV è stato semplice se avete trovato una persona del CV è stato perfetto, è abbastanza una cosa molto semplice che si può fare per caratterizzare il comportamento di un processo è prima che ho la cosa vincente, il bus successivo sarà più o meno uguale al bus precedente no? Questa è la soluzione banale quindi tutto quello che ti serve da un punto di vista del kernel è ricordare, misurare qual è il bus precedente ma visto che tu sai il kernel perché se il content switch avviene solamente quando il content switch avviene solamente quando entri in kernel tu tranquillamente vuoi mettere il timer quando entri e quando esci e vedere lo stato degli eventi e quindi quando vedi il stato degli eventi tu dici ok il tempo, il processo, il tempo successivo ci mette più o meno quanto si è messo al tempo precedente non è che ne sei certo, però fai una predizione questa predizione la puoi usare per, tra virgolette, non farai la decisione ottima perché la decisione ottima non la puoi fare però ti ci avvicini, singolando, predicendo quello che succede ok? Ora, questo qua è un modo abbastanza semplice, abbastanza bello il problema funziona il problema è che se c'è un povero programma che non fa mai un CPU basso poi per un momento della sua vita decide di fare un CPU basso grosso tu lo penalizzi pure la sua decisione che fa un CPU basso grosso, va in fondo e poi magari che poi da ora in poi avrò solo richiesto moderare tu dici no, va solo se verrai punito per sempre questa volta che hai usato la cosa che so fare è semplicemente un filtro mediano che è una cosa che lo vedete qua fa in a media geometrica una running win di quello che succede non so se avete fatto controlli automatici l'avete fatto qua, tutto qua è un sistema dinamico no, trasformato a uno diviso più da meno dove tu dici che il tempo stimato al tempo successivo è uguale a una media, tra virgolette tra il tempo stimato al tempo precedente e il tempo stimato al tempo precedente B hat è la stima B hat è quell'apicetto che c'è in testa B è il tempo misurato tu dici ok, allora detto alfa di K-12 ovviamente di alfa è uguale a uno cosa vuol dire? che il tempo successivo è uguale al tempo precedente se alfa invece è un valore che va da 0 a 1 se alfa invece è un mezzo tu dici che il tempo successivo è uguale alla media tra il tempo misurato e il tempo precedente se alfa va a 0 a 5 ok, in questo modo tu ammorbidisci l'evoluzione di questa cosa trasformata a zeta uno diviso uno uno diviso alfa meno zeta se mi ricordo bene ok? no, no, filtro basso a basso ovviamente, questo è come si fa ora, su il Batsheps si spettica tanto perché era fatto per computer scientist voi siete ingegneri e quindi io ci metto un attimo e quindi io ti ho spiegato questa cosa ok? tutte le cose un pochino più complicate una cosa più banale tanto vi avevi idea di come si comporterebbe una sorta già un test assumendo di avere un processo che dura 6x con un processo più 2,8 più 3,7 più 4,3 con quello che fai gli ordini in ordine di durata di basta li metti dentro il diagramma di Ganta a questa striscia a questa striscia e poi ricalcoli il tempo da pesare ok? ah, un altro giro un'altra categoria che tu puoi fare di scheduler che come si dice che premia gli utenti premium che poi sono tutti i concetti che inclui il settore romo dopo è un premia gli utenti premium con i processi premium chiamola così è uno scheduler con priorità la cosa è banale ma veramente banale è che tu ad ogni processo dai una priorità e all'interno di un quanto di tempo ovviamente finché un processo non arriva tu non lo puoi schedulare ma nel momento in cui ti arriva sei in una variata che puoi scegliere quale processo eseguito tu scegli il processo che c'è la priorità tua ok? normalmente negli scheduler la priorità più alta è indicata con il numero più basso ovviamente un priorità di scheduler può essere approssimato con uno short job first dove la priorità è l'inverso della tutela di scheduler quindi più è corto più basso più alta la priorità ok? allora quali sono i problemi dello short job first e del gli altri del quadro di scheduler al primo è la starvation se a me mi continua arrivato a process a bassa priorità o cioè a basso quanto o ad alta priorità io non eseguirò mai il processo che magari poverazzo stava lì in attesa di eseguire da tre giorni chiaro perché mi continua arrivati a processione che c'è un attimo di realtà come quando fai trovergli a piano alla spesa stai arrivando scusa se non sono aranciata passa poi da arrivare un altro scusa se non sono un pantetto delle gomme passano e tu stai lì con sto carello con la gente che si mette in attesa davanti questo è il problema una soluzione per risolvere diciamo per ridurre questo problema che è chiamato starvation è l'aging nel senso che tu dici ok ogni volta che me passa uno davanti ogni volta che un processo me passa davanti sai che c'è io dico che la mia priorità sale oppure che il mio tempo appeso di si più basta si riduce di uno in questo modo quando ne passano cento persone davanti anche se c'è un si più basta di cento lo scheduler pensa che io sono si più basta di uno e ne fa passare chiaro? o no? banale eh senti priori di scheduler penso che sia quasi offensivo se ve lo faccio vedere allora questo è il processo questa è la priorità questa è la rava time quello che dovete sapere è che quando arriva un processo anche la creazione di un processo può comportare ovviamente quando avremo un processo lo fai la virgoletta modalità ferna e anche la creazione di un processo può provocare l'eviction di un processo che stava in running chiaro? eviction vuol dire quando lo tolgo da running e lo metto dentro a red quindi se me parti qua qual è l'ordine? il primo che mi arriva è P1 P1 comincia a eseguire che priorità c'ha? c'ha priorità 3 qui c'è il prossimo che arriva? la prossima cosa succede a P2 quindi P1 esegue per un quanto nel frattempo al tempo 2 mi arriva P3 però P3 ha priorità 4 io sto eseguendo un processo a priorità 1 mi tengo P2 nella settimana quante pertiche me lo tengo me lo tengo per 5 pertiche per tutta la sua durata arrivo alla terminazione di P2 e a questo punto chi c'ho dentro la quota di redi? c'ho P3 e P1 e mi è arrivato pure P4 che c'ho priorità 5 quindi lo sta in fondo e chi è che mette in C2? beh prendo quello a priorità minore per quelli che ho quindi riprendo P1 ma P1 già gli ho dato un quanto e quindi P1 come esegue per 10 guanti a questo punto P1 è finito via che vado a pizzicare dentro la quota di redi di qual è quello che c'ho vivo con la priorità più bassa e P3 metto P3 faccio più? no quindi andiamo nel momento nel momento in cui tarino gli esercizi facciamo questo ora queste sono tutte belle cose altra categoria quindi queste sono tutte in scala tutte queste nozioni che abbiamo visto su priority eccetera eccetera valgono per gli scheduler che vengono attivati solamente quando o un processo termina o chiedono a io oppure ne creano ok questi sono i momenti in cui un processo adesso passiamo invece a degli scheduler clienti in cui quindi la CPU può essere sottratta c'è un processo di programmi può vederci la CPU fregata anche se non la c'è rettita ok allora alla base di ogni scheduler preempti c'è un pezzo di hardware che abbiamo già visto abbondantemente credo che è quello che ogni tanto sveglia il kernel e decide e decide il da farsi no? questa cosa qua è chiamata quindi uno scheduler non è che il kernel è una quantità di interruzioni mostruosa dal timer che viene invocato un sacco di volte non è che ogni volta che il kernel viene invocato dal timer cambia processo ok ogni volta che il timer viene dal timer magari può decidere di aggiornare dei contatori di un determinato processo di un altro non è che ogni volta che il kernel viene invocato lui chiama lo schermo ok magari lo chiama ogni 10 interact define ok allora quello che facciamo è stabiliamo per uno schermo di altri enti il quanto cos'è il quanto è la durata di tempo massima che un processo nelle condizioni ideali può stare in situ ok dopo che lui sta dentro nel tempo per questo tempo io per forza lo caccio ecco qua lo scheduler sappiamo che ha invocato o quando ci sono degli errori rest in più rispetto a prima quando c'è un interazione lo scheduler che avete sicuramente visto il sistema di calcolo è il round robin che poi è quello che abbiamo implementato c'è un disastro sia sull'acnet abbiamo implementato un round robin di cosa faceva questo round robin modalmente ogni tanto la situazione si svegliava cioè l'interazione arrivava a intervalli regolari di un quanto quando l'interazione arrivava apriava il processo del stavo running lo cacciava e ci metteva il primo ready e il running lo cacciava ok ovviamente questo scheduler può essere anche nel caso in cui ho un round robin se io ho un IO è chiaro che quel processo va nella coda di waiting ok e prendo il successivo e ricomincio da lì non è che io posso avere anche la variazione del di un processo anche a causa di un IO cosa che invece non abbiamo visto sull'atmos possiamo vedere un IO un semaforo anche un semaforo assimilabile tra virgolette a un IO sbloccare un semaforo metti una teta in un semaforo direi che vado dentro una coda di web allora cosa cosa banale assumiamo un round robin di questo tipo vediamo un attimo di calcolare vediamo un attimo di calcolare che cosa succede con un round robin che ha questa traccia di processi vediamo che questi processi arrivano arrivano all'ordine più o meno più o meno allo stesso stante e sì io ho un quanto 4 vediamo un attimo quello che succede allora me parte più uno più uno sta avventurato più per quattro vertiche dopo quattro vertiche me parte più due pacifico parte più due più due termina addirittura prima del quattro perché quanto era quattro quindi c'è un certo numero di volte più allora io sicuro quello che avrò un turnaround che è il numero di processi qual era che mi devo ricordare tutti turnaround è il tempo ok la so turnaround è il tempo di esecuzione di un processo quindi da quando un processo si presenta a quando termina ok questo è il tempo di turnaround il tempo di turnaround e round robin è peggiore del tempo di turnaround dello short job first perché perché lo short job first la CPU la usa sempre tra virgolette e siccome esegue un processo nel momento in cui gli da la CPU e la dà diciamo al cento per cento in mezzo non è che cominciano ad arrivare altri processi che lo dilata chiaro quindi tipicamente ha un tempo di turnaround quindi il tempo di completamento di un processo su uno schedule round robin che è tipicamente più alto che in mezzo esegue durante perché ne girano la CPU la dà a più processi per esempio più uno se voi misurate vedete questa traccia di processi vedete di round robin e vedete lo short job first vedete che lo short job first avrà un tempo di turnaround quindi tra quando arriva quando la sua esecuzione termina più basso il short job first e cioè il short job first è più basso verano perché il tempo di turnerà di più uno lui parte qua poi nel mezzo ci continuano più due più tre che poi finisce qua ok quindi è più alto però ha una chiaramente una risposta migliore risposta migliore vuol dire che è quello del che tra quando tra la fine di una io tra la terminazione di una io e l'issuing della successiva io perché io non devo aspettare tutti i processi che erano dei quanti più piccoli di me di essere eseguiti nella loro interezza io nel frattempo riesco a mandare avanti le cose perché prima o poi un po' di si più ce l'avrò e quindi riuscirò a completare il master a produrre il prossimo auto di prima di chiaro ma quanto dura il quarto quanto che ci avete su Linux credo che lo potete configurare da kernel oppure da grab credo che sia intorno ai 10 di secondi però mi posso fare se non è che il Linux era di più recente quindi come scegliere il quarto allora in linea di massima si chiama batch oppure se devi fare delle compilazioni l'idea è quella che siccome il costo è il contest switch questo è un contest switch non forzato perché quando devi fare una I.O in kernel ci devi passare per forza o comunque devi comunque salvare pulire la memoria per fare del lavoro quando devi fare una I.O ma invece quando tu attivamente sottrai la di più a una macchina ma tu immagina che se fai girare tu ti dico voglio una macchina fluidissima quindi fai girare in quanto ogni secondo a un o a che ne so a 10 gigahertz bello si hai una macchina molto veloce ma la di più stai sempre a far conti switch buttare un sacco di risorse terribili quindi nel tuo interesse scegliere un quanto che sia abbastanza grande per riuscire a fare un po' di lavoro tra una cosa e l'altra e abbastanza piccolo da garantire all'utente un'idea di progresso un'idea di multitasco ok altrimenti fai in quanto di un giorno un giorno un programma un giorno un giorno un altro qual è la regola d'oro la regola d'oro è che per scegliere il quanto tu quello che fai è cominci a monitorare i processi e vedi qual è la durata media del cioè fai un histogramma della durata dei pass che era un histogramma come quello che abbiamo visto qua fai questo histogramma e decidi un quanto che cattura l'ottanta per cento dell'area sotto all'istogramma ok vi fai l'integrale questa roba qua quindi che vi è l'area e tu dici ok io mi fermo all'ottanta per cento per esempio qua presumo che questo sia l'ottanta per cento forse qua sta all'ottanta per cento questo qua sarebbe con quanto di sei millisecondi un buon comportamento oppure stiamo larghi fai molti ogni seconda e così tempo ancora più perché se tu riesci a catturare il cpu basso dentro al dentro a un quanto di cpu dato dallo scheduler tecnicamente quello che fai è che all'ottanta per cento dei processi non di lei rimani la cpu se loro non te la cedono tramite una io e quindi non fai scontento nessuno ok chiaro allora tu fai stistogramma no fai stistogramma quindi rimetti a monitorare i processi di un computer e dici ok quanti quanti processi quante volte ho un quanto di un millisecondo che ne so qua tre millisecondi quante volte ho un quanto di quattro millisecondi cinque millisecondi ovviamente l'intervallo quante volte ho un quanto tra un millisecondo e quattro millisecondi quante volte ho un ti fai stistogramma ok poi tu dici io scelgo un tempo tale per cui l'area di questo programma l'ottanta per cento dell'area di questo programma è contenuto tra zero e il valore di questo questo chiaro allora beh tipicamente è così però se c'è una distribuzione multimodale quindi se c'è più picchi vabbè però le animazioni danno sta forma sottile un po' esponenziale io starei allora se tu fai così beh qui c'è ancora tanta probabilità di mass no? beh se tu il vostro core dice mi conviene prendi il picco ma se tu prendi il picco questa distribuzione tu c'hai ancora tanta area fuori vuol dire che tutti questi processi che stanno facendo tutti quelli che hanno votato per questo quanto subiranno una force detection quindi vengono penalizzati da un forte switch se tu dici come sai che c'è allarga un pochino aggiungo un pelino di latenza però in questo modo quanti conteswitch ti salvi? ti salvi tutti questi conteswitch non necessari qui poi l'ottanta per cento è una rula ottana no? sono una regola così che polli 80% questa è quello una politica che io ho trovato su cinta forse per me io vorrei vedere meglio questa distribuzione se dovessi da robotico se dovessi fare un'analisi per catturare le cose vorrei vedere bene qual è la distribuzione dall'altra parte vorrei sapere qual è un tempo accettabile di conteswitch per cui l'utente non incomincia a offendermi no? e poi anche qual è l'uso di quella macchina quanti processi l'utente ci fa girare perché un conto so io che tipicamente tendo a chiudere i processi a parte le sceglie che tanto stanno a dormire però tendo a chiudere i processi e la solta praticamente un collega che si diverte lui la macchina non la spegneva mai aveva una quantità dei processi aperta all'infinito e quindi li teneva lì pure quelli lavorano che stanno a schierna in quel caso lui avrebbe avuto bisogno di un quanto di tempo basso perché? perché dato un processo il tempo in cui lui si ripresenta la CPU con un round robin vuol dire che tutti gli altri processi sono passati quindi se io magari me la cavavo con un quanto di tempo di 10 millisecondi perché c'ho tre processi e quindi dopo 30 millisecondi la macchina mi ritorna al programma che sta usando se tu c'hai 50 processi che ti stanno a gonpolare sulla CPU e c'hai un quanto di 10 millisecondi beh devi aspettare 500 millisecondi prima che ti ritorna la CPU chiaro quindi dipende anche da quali processi hai eccetera volendo fare una soluzione continuata ok questa è la regola allora il mio di massima quello che si fa su un computer anzi tu lì ma io non c'è uno scheduler particolare che mi pare che è carino andare a cercare l'inus è completely scheduler è lo scheduler che usa l'inus però qua parliamo di cose di cose classiche che poi è stato rimpiazzato da uno scheduler di not B1 qua parliamo di cose classiche vediamo un attimo quello che abbiamo capito è che in funzione del tipo di applicazioni che girano su una macchina e dell'uso che ne faccio posso volere uno scheduler piuttosto che un altro per esempio se io sono interessato nel massimizzare il trucco io vorrei avere una short job first perché la short job first è quello che usa la macchina al meglio fa zero contest switch non necessario e cerca di eseguire tutte le cose possibili magari potrei per evitare il problema della starvation cambiare questo short job first e introdurre un fenomeno di aging di aging sul quanto di tempo ok però la short job first faccio fatica a caratterizzarlo se io non so quanto effettivamente funzionano i processi quindi magari potrei investigare quello che faceva già nel gruppo il suo gruppo che erano i vecchi system group della sapienza loro investivano un sacco di risorse nell'ottimare le caratteristiche dei processi perché poi questo gli permetteva di tunare lo scheduler in maniera migliore o peggiore quindi massimizzando del genere da volato processi però assumendo di avere da contratto una una certa durata al migliore sarebbe lo solito ci puoi avere dei processi che quando girano dopo un po' cioè che decidi di lanciare a bassa priorità perché magari sai che ci metteranno del tempo e nel suo tempo il computer lo vuole usare ti faccio un esempio se tu fai una build del piano non del programma che stai usando ma stai a fare la build di un programma di un altro e a te quello che interessa è solamente l'eseguibile di quel programma che poi dopo dovrai chiamare voglio buildarmi GIMP o voglio buildarmi GCC poi dice a me non è che mi interessa fare l'editing GCC lo prendo e sta lì però voglio l'ultimissima versione me la scarico da consorgente e la compilo se a te ti interessa fare una cosa del genere è che non è che non stai lì con l'orologo semplicemente parecchio e compila ma tu lo mandi in background diciamo lo mandi a passare se invece stai usando un videogioco magari ti interessa un'altra cosa ti interessa che i tempi di reazione della tua macchina siano molto veloci ok ti interessa che le cose ti ottimo se stai usando un editor anche fino a un certo punto poi fino a che intanto che la latenza di pressione di un tasto non è misurabile dal tuo app quindi parliamo sotto ai credo 30 mili secondi 40 mili secondi quindi se tu quando avrai immediatamente l'impressione che il carattere a fare no diciamo bene così non è che deve andare più in basso a parte 30 fps quindi sotto i 30 non è quindi il problema è che un povero scheduler un povero kernel non lo sa quali kernel c'è una lista dei processi di dato e gli dici sì domanda un basso priorità perché comunque lui deve compilare perché poi è sicuro il caso che tu stai compilando perché stai a fare un programma e allora gli dici tagli e tagli e tagli per compilare no cosa è successo ma sì quando fai delle 20 grandi oppure può essere che il il kernel non lo sa che cosa la tua applicazione fa non a lungo no allora che cosa possiamo fare possiamo farglielo stimare quindi possiamo cercare di capire dentro al kernel in funzione delle quantità che possiamo osservare come si comporterà un'applicazione di questo strumento in maniera tale da caratterizzare abbiamo già detto che uno scheduler round drop magari è una cosa buona seguito dei processi interattivi è una cosa meno buona seguito dei processi interattivi quello che possiamo fare oppure anche il quanto del mio round robin cambia in funzione della categoria del processo perché se io ho un processo che fa dei piccolissimi però ne fa tanti a me mi interessa avere un quanto piccolo perché tanto fa un basso lo passo a quello dopo quindi questo processo non si troverà mai tra virgolette anticipato da dei processi che magari si mettono tanto tempo io ho l'idea di un buon tempo allora l'idea è quella che tu potresti avere nella tua macchina n scheduler diverse con n code diverse e spostare un processo da uno scheduler all'altro magari lo stesso scheduler ma con dei parametri diversi potresti avere uno scheduler round robin con un quanto da 10 millisecondi uno scheduler round robin con un quanto da 100 millisecondi uno scheduler round robin con un quanto da insomma oppure uno scheduler short job first in fondo se decidi di mandare in fondo delle cose insomma puoi avere più scheduler che concorrono puoi farlo anche se non hai più CPU ovviamente devi garantire di ogni non sarà devi garantire sempre la possibilità di sottrarre la CPU quindi di sottrarre la CPU non sarà ci saranno diverse priorità e quando la CPU è offerta ad un processo ad alta priorità non potrà mai essere sottratta da un processo più bassa priorità a meno che a meno che questo processo qui non termini il tuo quanto o non termini il tuo questo è l'idea quindi c'è diversi livelli di privilegio ogni quando un processo gira ad un livello di privilegio quello che succede è che sta lì completa il tuo quanto può uscire può essere se non completa il tuo quanto vuol dire che ha usato meno di più del necessario siccome ha usato meno di più di quanto mi aspettavo allora vuol dire che questo processo è un processo più veloce un processo più interattivo allora io posso aumentare paradossalmente la priorità quindi lo posso muovere su una coda di più alto livello che verrà eseguita più frequentemente se invece un processo costantemente consuma tutto il tuo quanto è un altro po' dico no 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 questo è un processo che puzza di batch allora che faccio lo prendo e lo sposto su una coda di più basso livello voi potete immaginare così più basso livello ok quindi l'idea è che io so più code una dietro l'altra e quello che farò è ogni volta ogni volta che parte lo schiattolo guarderò la situazione corrente e prendo il processo un processo dalla coda di priorità più alta se il processo costantemente usa il suo quanto nella coda a priorità più alta allora lo sposto a una coda più alta di là più bassa più sotto dove magari sarò un quanto un pochino più lungo però verrà eseguito meno frequente ok quindi io so uno scheduler di scheduler potete immaginare che io so uno scheduler che dice per 5 volte prende un processo da qua per 4 volte prende un processo da qua per 3 volte prende un processo da qua e via di conseguenza quindi pesco da questa 5 volte ogni volta che pesco cioè per ogni volta che pesco da questa pesco 5 volte da questa per ogni volta che pesco da questa pesco 5 volte da questa e 2 volte potete immaginare una meccanica di questo chiaro? sì? posso? e io guardando un pochino come stanno messe le cose potrei decidere come di spostare un processo da una parte da l'altra ricordiamoci sempre che nel contesto di una serie occidentale veramente dovete cercare di abborire l'attardation quindi non è che un processo che sta dentro la coda più infima questa qua anche questa qua l'ho presa dal Silver che ha messo la coda a basso livello di processo dell'Occidente non mi sembra così dunque se un processo anche sta qua io devo garantirgli la possibilità di avanzare non è che lo posso tenere qua a vita e non pescare mai quindi l'idea è che tu dici ok pesco una volta tre volte da qua poi ogni dopo tre volte che ho pescato da qua pesco una volta da qua dopo tre volte che ho pescato da qua pesco una volta da qua dopo tre volte che ho pescato da qua pesco una volta da qua e poi devi pesco e alla fine ricominci da qua chiaro? sì? no? ragionevo ovviamente i pescaggi possono essere anche interlitto tre volte poi una volta poi tre volte poi no perché altrimenti una volta che tu stai qua cominci ad allungare il tuo tempo e penalizzi questi testi ma questo lavoro qua tu lo puoi fare all'interno del kernel perché tu hai un interrupt che arriva ad alta frequenza ogni volta che arriva all'interratt tu puoi decidere che cosa fare e a quel punto nel caso in cui l'algoritmo di scheda di utilità è il caso di fare un contest switch fai un contest switch chiaro? sì? no? pacifico? no e vabbè non c'ho sempre il prefetto della slide allora questo è il prefetto della slide e questo è lo spiegone di quello che ho detto non c'è parlato quindi quando c'ho questa politica veniva usata sui sistemi viene usata su alcuni sistemi veniviamo da multilever più da più cosa vuol dire come fai a caratterizzare una multilever più da più bene ogni cosa può avere diversi algoritmi di schermo ma devono essere tutti preenti chiaramente e devi caratterizzare quando un processo può aumentare di priorità e quando un processo invece diminuisce quindi devi stabilire queste due polizzi qual è la condizione tale per cui un processo deve essere demoted con una cosa più bassa oppure qual è la condizione per cui un processo deve essere promoted a una cosa più bassa questa è la prima e poi e poi devi decidere qual è la politica che userai all'interno di un singolo algoritmo potresti usare un priority scaler piuttosto che non priority scaler potresti usare un round robbing o magari decidere di lanciare dei processi e magari non fare un solo di danno perché se c'è la macchina scarica e non sto facendo assolutamente niente è inutile distribuarla con i troppi contesti no all right adesso questa è la storia che lo schermo e se c'è avete domande fatemelo se no vado avanti vado avanti allora ora tutti i vostri cellulari sono un corso schifo tutti quanti sono 1,2,4,8 core eccetera eccetera allora questa è una cosa buona e mala è una cosa buona perché con meno core tu riesci a consumare di meno è una cosa mala è una cosa perché per utilizzare nel caso qui effettivamente tu devi fare dei calcoli non di niente per utilizzare una su più diciamo in maniera parallela tu devi cambiare l'algoritmo non so se devi fare per i corsi di programmazione parallela non è che tutti gli algoritmi hai due code che fanno uguale devi proprio cambiare l'algoritmo in certi caso un esempio devi fare una somma di due vettori sommare elementi un elemento alla volta se c'hai più core tu dovrai prendere mezzo array e mezzo vettore e sommarlo su un core l'altro mezzo vettore e sommarlo su un altro mezzo core e poi potrai fare il join per utilizzare tutti e due i core insieme tutti e due i core insieme questo è un esempio quando programmi in cuda o sulla gpu ancora peggio insomma l'algoritmo delle volte è completamente rivoluzionare quindi non è diciamo viene ad un costo da un certo punto di vista questo è il costo che viene caricato sul programmatore ma questo non è un dramma dice perché consumano di meno perché in teoria tu sei in grado di fare due attori in parallelo quindi puoi far girare ad una frequenza più bassa perché per ottenere le stesse prestazioni magari se c'è di autoro fai girare quasi più a metà della frequenza facendola girare a metà della frequenza la puoi alimentare con molto meno voltaggio alimentandola con molto meno voltaggio cosa succede che le capacità parassite che sono quelle che scaldano dentro la cpu sono più basse e che dal cpu andrà in maniera più economica cioè consuma meno energia questo è il motivo quindi questo è buono è malo perché la gente li mi ciuta cioè io quando mi porto a vedere le persone aprono dei tre come se fossero delle finestre no abbiamo tre no ti serve questo thread o non ti serve molte cose cioè la risorsa vanno usate nel momento in cui servono non vanno buttate ok allora per parlare di sistemi con molti in più beh abbiamo nella storia io ho avuto il comodo 128 che era un computer un computer e c'era due cpu una 080 e 65 002 erano due attivitture completamente diverse ma non so se qualcuno si è riuscito ma qualcuno ha detto pure che potevano girare in parallelo ma non lo so questo quello lì era una struttura a due cpu eterogenee che non c'entravano niente quello che ci abbiamo oggi tutto sommato sono delle cpu che hanno delle cpu con la stessa architettura non necessariamente uguali ma con la stessa architettura perché non necessariamente uguali beh sui cellulari su alcuni cellulari ci sono l'architettura biglip sono tutte cpu arm ma c'hai un po' di cori che sono dei cori carrozzati che sono buoni per eseguire i conti tanti e c'hai un po' dei cori invece un pochino più come si dice asmatici che invece consumano poco ma performano anche poco ok e allora è tuo interesse scegliere in questo caso dato un tipo di applicazione potrai decidere se farla girare con un core a basso consumo perché magari quella applicazione ha bisogno di poca tra dei quanti piccoli se sveglia ogni tanto l'utente non realizza che sta girando su una macchina più lenta o su una cpu più lenta quindi puoi avere delle architetture la stessa un'architettura ISA instruction set architecture omogeneo però delle cpu che hanno delle diverse parole quindi quando vuoi fare un kernel tu puoi fare un kernel per multiprocesso tu puoi fare un kernel di due tipi i primi kernel li non se le supportavano tutti i processori erano asimmetri cosa vuol dire solo uno dei cori è arrivato al kernel il core esegue il kernel e tutti gli altri eseguivano esegue il kernel e i processi tutti gli altri cori invece eseguivano un solo processi questo è bello dal punto di vista del kernel developer perché se c'è solo un core che esegue il kernel vuol dire che le strutture io non devo implementare dei meccanismi di lot tra le strutture c'è un unico kernel 3 se cambio una struttura dati vuol dire che sto io a cambiare ok e quindi è facile se invece vogliamo che più e adesso è quello che c'è praticamente tutte le macchine essendo qui se invece vogliamo e delle volte è utile che più processi più processi siano in grado di entrare in un fenomeno interno al mobile diciamo che possono esistere più kernel thread allora se vogliamo che il kernel possa essere eseguito più si più in parallelo meglio allora quello che dobbiamo fare da un punto di vista di kernel è mettere un sacco di lock perché abbiamo visto che altro non è che un anticantesto a struttura dati beh se io so due attori che vanno a manipolare la struttura dati in parallelo io mi devo garantire che esista la consistenza ok quindi il kernel smt è pieno di spinlock no diciamo ma spinlock l'avete visto il spinlock questo è un campo no while not true punto e buco while not b dove b è un booleano punto e buco questo è uno spinlock ok però non è che gli spinlock so spinlock apposta se mettono poco tempo non è che stai lì a caldare la macchina cioè cosa istantanea la cosa quello che potete fare anche che vi ritrovate è una sorta di processo raffinico sugli scheduler attuali potete anche dire quando lanciate un processo sui limit domani magari ve lo faccio vedere potete dire di eseguire questo programma su quella particolare su qui o eseguire questo programma su quell'altra particolare ok questo è quello che i kernel che i kernel attuali dei multi processi scheduler di offron perché magari c'è una macchina con la gpu o una macchina senza gpu oppure io voglio forzare nella mia architettura biglittle che questo processo si è eseguito su un sistema più performante poi voglio forzare che nella mia architettura biglittle questo processo si è eseguito sulla macchina meno performante perché anche se ci mettete più non me ne frega niente io voglio chiaro bene questa cosa qua si chiama processo raffiniti non mi ricordo quali sono le istruzioni ma leonardo sicuramente lo sa quali sono degli utility per lockare un processo ad un core oppure per suggerire ad un processo di andare un core quando locki un processo ad un core e dici questo processo può essere eseguito solo su quel core e magari quel core è l'unico ad eseguire quel processo quindi è duale tu hai vinto una cosa hai vinto la cache consistency perché la cache di quel processore sarà dedicata di quel core sarà dedicata solo a quel processo quindi non è una cosa necessariamente malvagia da fare puoi taroccare le cose in maniera tale da far piottare il tuo programma più di quanto pensi ok quindi ci abbiamo la soft affinity quindi suggerisce oppure add affinity gira l'altro e passa l'ultima cosa che vedrai ci abbiamo quasi fatto dai finisco lo scheduler l'ultima cosa di cui vi parlo e poi andiamo sulle valurazioni dello scheduler è l'ultima categoria di scheduler sono in realtà di scheduler che sono quelli che avete gli automobili e anche in ogni dispositivo automatico tutto sommato oggi c'è un'altra realtà in studio ah qual è la caratteristica della realtà intanto parliamo di soft e hard in realtà un esempio di soft e hard in realtà è un playback video soft e in realtà cosa vuol dire cosa deve fare un playback video deve garantire che hai un frame almeno 30 frame al secondo e soprattutto devi tenere piene le code dell'astera audio ok questo è quello che deve fare se non succede niente ti scatta un pochino l'immagine oppure ti si blur ok oppure l'audio di glitch se non ce la fa però non ti casca l'aereo e già al real time i reali si usano dove i task sono sono simpetica per esempio quando devi implementare dei programmi che controllano delle centrali o dei dispositivi automatici dei motori eccetera eccetera quando avete visto controlli automatici avete detto che avete fatto la trasformata verità no sì o no sì avete visto che un sistema si può trasformare dal dominio di la plus al dominio devo ricordare il sistema può essere trasformato da tempo continuo a tempo distretto nel momento in cui lo trasformate a tempo distretto una cosa importante che vuoi fare è stabilire la costante la durata dell'integrazione la durata in cui il e cambiare la durata cambia proprio i parametri del sistema quando fate questo e è importante quando vuoi implementare uno di questi sistemi su un computer è importante garantire che il quanto di tempo in cui il controllo automatico verrà eseguito rispetto il quanto di tempo che hai utilizzato per calcolare i parametri del controllore una volta discretizzato attraverso passando la trattura al dominio dell'obietà se tu sgarri questo tempo la macchina si rompe la voce rompe delle volte tanti momenti fanno ok quindi ora io la mia tendenza quando faccio questo tipo di cose è che il sistema operativo non ce lo mette no ma attacco al clock attacco al timer perché sono vecchie scuole nei sistemi moderni hanno aggiunto molto software e quindi ci sono dei sistemi operativi in realtà in cui nx o altro che ti permettono di specificare dei task che devono essere esimili in realtà cosa vuol dire in realtà vuol dire che un task è caratterizzato da dico dopo è caratterizzato un task in realtà è un task civico immaginate un controllo automato è caratterizzato da un periodo ogni quante volte devo fare questo cioè quanto ogni quanto si ripresenta questo task che io devo fare periodo poi c'è una una durata della computazione quanto tempo ci metto a calcolare i parametri che poi dovrò mandare in uscita secondo quantità quindi t e la terza quantità è la deadline una volta che io ho calcolato questi parametri io dovrò anche propagarli fuori magari perché magari dovrò mandarli a un attuatore a un dispositivo e quant'altro quindi io non è che non è che la mia è la mia deadline quindi io devo aver finito quelle quattro poi cosa ogni mattina io devo venire a fare lezione questa è questo è il mio periodo quindi sono ventiquattro ore a fare lezione ci metto due ore no però non va bene perché manca la deadline come posso mettere la deadline oh sì ogni mattina ogni mattina alle 11 fai conto io al massimo posso finire posso metterci al massimo due ore per fare lezione al massimo due ore perché dopo arrivo al professore dopo quella è la mia deadline però io a fare lezione ci metto un'ora e venti ok quindi un'ora e venti è la durata del task il tempo di di processo io devo aver finito in due ore e mi ripresento il giorno dopo alla spezzola quindi 24 ore è il mio periodo la mia duration è due ore e il mio tempo di cpu fai conto è un'ora e venti ok questo è un esempio di task allora io sicuramente la cosa importante è che io non posso violare la deadline perché se violo la deadline vuol dire che in questo punto io non riuscirò non avrò magari abbastanza margine per controllare quell'attuatore se non riuscirò a mandare a quel controller a quelle alette a quell'elica del quadrotolo o qualt'altro non riuscirò a mandare il comando in tempo ok chiaro questo però io per calcolare il comando per forza ci devo mettere meno tempo della sua deadline questo è obbligo no se ci metto di più insieme a fa e ovviamente la deadline deve essere inferiora a te specifico banale ok in uno schedone di questo tipo tu puoi avere diversi tassi che concorrono ovviamente questa cosa qui deve essere rispettata quindi il tempo di esecuzione deve essere minore della deadline e deve essere anche minore perché se no non si abbattano c'è un test di schedulabilità che si può fare sui processi real time per vedere dato un insieme di processi che hanno certe caratteristiche ce la faccio a schedulare in real time o non ce la faccio la cosa bella dei processi in real time è che tu sai esattamente quanto si è meno e tu molto spesso sai quanto dura questo tempo di qua perché quando vai a scrivere dei programmi in real time mission critical tu non puoi fare memory allocation la memoria la alloghi tutta staticamente ok oppure puoi usare dei full allocator ma controllati come delle sorte di scritture da vedere perché perché la memory allocation cioè a quel punto diventa una sorta di struttura statica perché perché la macchina deve essere garantita che se manca la corrente riparte riparte tu puoi ripartire più o meno dalla stessa configurazione poi credo che sia per dei motivi che se tu sai una malloc vera o se tu hai un sistema operativo vero tu puoi avere segmentation un po' di violazioni o quant'altro mentre invece se fai un processo che è lavora tutto in memoria statica parliamo da così quindi crearlo delle strutture all'inizio e poi lavori sempre su quelle strutture quindi tutto molto spesso tu devi fare di tasca di controllo quindi non è che ti cambiano le cose in corso d'opera tu c'hai un input e devi produrre un risultato questo è quello che tu fa questa è la prima e poi perché questi programmi ovviamente vengono valutati proprio degli analizzatori o dei software che vanno a vedere tutti i possibili casi perché prima di mente uno dei software o dei pezzi del programma su un aereo devi essere un attimo devi andare in calcolo quindi fanno un'analisi statica del codice per vedere se le cose funzionano ma la cosa che si fa è un test di scherzoabilità mi viene in mente una cosa ovvia che vi può dire immediatamente se i processi se un insieme di tasco può essere eseguito o no da una macchina ovviamente questa è una condizione necessaria ma qual è un'altra condizione ovvia? Dato insieme di tasse mettiamola così quanto è il tempo di frazione di CPU usata da questo processo? qual è la frazione di CPU usata da questo processo? processo sarà P diviso P anzi T diviso P è T diviso P P è il periodo e T è il tempo ok? quindi un test di scherzoabilità banale è che tu calcoli la frazione di CPU utilizzata da ogni processo le somme se la frazione di CPU se la somma di queste frazioni è maggiore di 1 vuol dire che non si può fare perché non ti abbasta la CPU per arrivare quel caso quello insieme di 2 no? non è ovvio quindi questo è il test di scherzo di un insieme di processi ora vediamo un po' se ce la faccio 12 e 44 le leggete ancora oppure se le tanti voglio andare a mangiare mi fate? vabbè dai andiamo a mangiare ciao continuo domani